eccomi ciao simo ragazzi siamo pronti oggi partiamo partiamo abbiamo qua preordinato ragazzi apposta per voi ciao simo ciao sigaraio siamo pronti vediamo un attimino vediamo come vediamo com'è ragazzi non parte non parte oddio non parte partito prima abbiamo un problema di xbox allora aspetta nato riavviamo la console guardate che questi aggiornamenti guardate che questi aggiornamenti danno crisi e danno crisi ciao 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 allora iniziamo bene siamo bene è tutto molto bello no scherzo partiva prima si vede ogni tanto capita l'xbox che si blocca no destini 2 no no domani dovremo portare almeno un paio d'ore di destini 2 no ogni tanto capita che l'xbox probabilmente ogni tanto 20 magari fanno degli aggiornamenti quindi tu darti ma non partono i giochi come se sei un po in confusione ogni tanto la devi riavviare quando invece fa un po così devi fare il drastico tipo tenere premuto l'accensione per 10 secondi in modo che si resetta tutto e parte succede anche pc magari succede anche qui comincio a preoccuparmi seriamente questa facendo adesso penso io a te perché ok ci siamo pronti bisogna dargli tante coccole bravissimo così è adesso parte adesso partirà tutto siamo tranquilli però poi fa così poi fa così e tu sei tutta felice guarda ma che figo c'è stato proprio ecco mi sei forse in presente è tutto va vedete va premia per iniziare e noi siamo accetto tutto a devo leggere tutto accordi di licenza con l'utente finale call of duty le ho letto tutto ragazzi tranquillo 50 per cento terrei ste concordi con me perfetto mi dici così perché mi dici così perché ho tutto perfetto potenzia cuffie potenzia cuffie potenzia i bassi ragazzi concordi bravo come la mettete potenziamo i bassi ma anche dentro sorda poi è abbastanza alta allora basta diamo comandi semplici comandi semplificati andiamo normale mi state mettendo l'ansia continuiamo per l'amore di Dio no no va bene sin for sinner va benissimo mail associata ragazzi avete visto tutti la mia mail mi raccomando non ora dai facciamo dopo non partiremo mai ragazzi meno male che siamo partiti prima no dai per amor di Dio devo semplicemente andare in campagna cioè nel senso basta spam su se ti dico allora cosa stiamo facendo vado a prenderlo io ve lo dico io allora ecco questa è l'unica cosa che mi ha sempre un po' infastidito dei codi dobbiamo partire qua spam allora avete visto la mia mail avete visto il mio nome il mio posto qualcos'altro cosa succede mi sembra di essere salvato su destiny che mi ha avuto 860 miliardi di problemi mi devo ristartare basta minacciare un attimo ragazzi è finita a me poverina pensavo non lo so una cosa così tu vuoi mandarmi dai vuoi andarmi a pulizia non si fa non si fa ce la facciamo ragazzi ci sono ce la possiamo fare ci sono i soliti problemi di code su tutti i code del mondo però non mi puoi far ristartare 860 miliardi di volte lo stato perché uno poi perde un po' la pazienza ho capito ho capito sono anche capito devi devi darmi un ce la puoi fare dai col abbiamo messo tutto adesso tutto fammi partire e dai ci voglio vedere sta storia ho cercato di non andare nessuno che stava portando come farcela bene linguaggio scurrile si consiglia concato e si perfetto devo selezionare la prima posso scegliere un soldato ah questa è la facciamo soldato o esperto soldato o esperto facciamo soldato a dura prova già mi fa un po' impressione abbiamo soldato vediamo male che va se sempre devo farlo esperto veterano si parte sempre un pochino a basso inizia ragazzi non mi ha messo in pese ragazzi attendiamo intruzioni ricevuto aspettate l'aswell abbiamo conferma watcher 1 a bravo 07 è in posizione quasi l'elicottero in arrivo è generale corbrano no ma che figata ora sali lassù e scopri cosa sto facendo là in mezzo al nulla contatto visivo che cosa vedi? ah devo vedere devo vedere ragazzi soldati armati mezzi attrezzature tutto russo che diavolo ci fa no ma non si può riforniscono l'iran trafficano armi hai sentito tutto shadow 1 affermativo le piccini con una fava serve un riscontro positivo su gorbrani prima di iniziare ghost vuoi identificare il generale parla no non è vero sarà lì che parla con tutti? scorte armate intorno a un pezzo grosso i russi sono felici di vederlo per loro sarà l'ultima volta ok c'è qualcos'altro? ah sempre lì l'ultima volta arto bersaglio visuale sul generale gorbrani ricevuto a tutti bersaglio confermato shadow 1 procedete con l'attacco ricevuto capo ghost sei troppo vicino alla zona d'impatto sarà un gran bostro è citatissima ragazzi bellissimo fuoco è troppo alto l'audio? missile pronto per la consegna immediata in attesa del lancio posinate inserite bersaglio designato vabbè guardate la grafica ragazzi fuoco missile partito no vabbè facciamo una brutta fine ragazzi io perché lo fanno guidare a me? perché dobbiamo morire male subito? dove devo andare? di qua di qua di qua mi sento maverick aiuto aiuto grazie avanti l'aswell generale shepard conosco quello sguardo siamo in guerra sarebbe il primo a saperlo lo credo bene che succede? sappiamo chi ha il braccio destro di gorbrani cioè dai ragazzi come vi sembra? vuole prendere il suo posto in Iran rifornendo i terroristi informazioni soldi armi è ambizioso è pericoloso vuole vendicare l'attacco a gorbrani ha in mente qualcosa non possiamo prenderlo in Iran non è in Iran signore è sul campo ad al masra che cosa ci fa ad al masra? c'è solo un modo per scoprirlo beh prendiamolo quando? adesso che ore sono? chi mandiamo? puoi mandare partenza in 5 ricevuto i marini stanno imbarcando tu e il sergente sarete a capo della missione il sergente? non pensavi andiamo a casa alla vittoria tenente mi tengo un posto che puttana goss mi ricevi? sì signore qualche problema? negativo signore chiudo gli attacchi aerei colpiscono il nemico intorno ad al masra rapporti confermano che combattenti di Al-Katala convergono nella valle stanno proteggendo qualcosa l'intelligence segnala soldati in tre strutture il maggiore Hassan forse all'interno ghost e soap guideranno un'unità speciale per uccidere o catturare Hassan stanotte un elicottero inserirà due team alle estremità dell'area avversario il team bravo prenderà gli edifici 1 e 2 il team alfa l'edificio 3 avete tutti la facoltà di uccidere vogliamo Hassan vivo per interrogarlo ricordate il maggiore Hassan è cruciale per attaccare se è lì moriranno per loro buona caccia il team bravo scende qui il team alfa resta a bordo e atterra più avanti entrambi i team si incontreranno nel mezzo ricordate vogliamo Hassan vivo ma anche morto è un'opzione siamo cattivi abbastanza scendo me ne vado forza so vado allora io ragazzi devo essere sincera è la prima volta che gioco la storia di un code gli altri li ho sempre lasciati un po' lì quindi vediamo questo ci piace guardate il visore notturno a tutte le unità Razor 1 sottotiro ci agganciano missili in arrivo flare flare si deve essere in grado secondo missile io però non tutti non perde cota stiamo precipitando fermo alfa che succede prova alfa mi ricevete bravo alfa è bloccato numerosi feriti merda qui si sparano di tutti alfa procediamo verso l'edificio 1 resistete ghost il luogo dello schianto va messo al sicuro per prima cosa Hassan così togliamo la pressione su alfa poi mettiamo al sicuro il luogo dello schianto chiaro? ricevuto andiamo lo seguo lo seguo lui mi sento più sicura? avviciniamoci alla casa ragazzi comunque ha fatto benissimo che scuota ho fatto controllate l'area sono cattivi sono cattivi sono cattivi cattivi facciamo una alla volta pieno terra libero negativo su alzarra ricevuto primo piano libero capito ai schizzi ai hai visto hai visto hai visto hai visto hai visto hai visto bravo tutti all'edificio 2 primo piano prendiamo l'edificio 2 resistete e ti sei da l'altra parte l'ora 7 1 vado all'interno beh questo è meglio questa roba che so non ti spavento sono dei miei sono dei miei, dei loro, dei loro, dei miei dobbiamo salire 7 1 vado al primo piano solo qua solo che ho ucciso guardo si tocca ai miei uomini mi piace questo devo cambiare armi no probabilmente cazzo ce n'è uno nel corrido guarda ghost rpg nemico sistemato ricevuto ottimo lavoro oddio ho ucciso la signora ghost qui è sicuro negativo su assanna ho ucciso andiamo al luogo dello schianto qui c'è un video di assanna ma l'ho fatto apposta dovranno trovarsene un altro tutto a posto si la piastra mi è protetto sono stati loro a colpire alfa si ora possiamo mettere a sicuro il luogo dello schianto non va bene così riflesso però radunarsi all'esterno ghost qui sopra alcatala è ben attrezzata ci è rimasta quasi male noi andiamo al luogo dello schianto per soccorrere i feriti voi restate qui e copriteci capito alfa 02 qui bravo 07 edificio 2 sicuro stiamo arrivando qui alfa ricevuto non è finita alcatala è in agguato alleati bello vedervi ragazzi abbiamo cinque vittime e un ferito e ho solo quest'arma quasi scariche dammi una mano è rimasta male non c'è tempo sono qui punto l'arma verso gli alberi qua fuoco non dovevo non metterti davanti ma che buco ragazzo qui ne ho ucciso uno cazzo cazzo tira su l'arma si avvicinano cazzo mi smirato si mi smirato smirato qua l'ho smirato male uh mi hai fatto malissimo eh e non posso mettere le piastre ma dov'è c'è chino che da qua possa smettere per favore a posto per ora occhi puntati sugli alberi ci sono ancora movimenti 7-6 serve supporto aereo ravvicinato su quegli alberi roger richiedo subito in posizione non è ancora finita 0-7 3 minuti all'attacco ricevuto supporto aereo in arrivo ehi c'è del fumo vicino agli alberi nessuna visuale sì non vedo un cazzo arrivano dove arrivano dai però ma sta facendo malissimo ragazzi non lo vedo più non lo vedo più non sono vicino altra ai giochi di guerra io comunque puttana sono morta l'altro di morire è anche uno dei tanti della vita e insomma vorrei evitare porca miseria mi hanno preso di lato ehi c'è del fumo vicino agli alberi nessuna visuale se non vedo un cazzo ma te la metto come te la metto arrivano dai sta al riparo lanciano granate mi ha detto c'è smirato due volte o no eh questo è il fumo è colpito è a terra è morto continuate a sparare che si riesco guarda che caos non l'ho preso lo vedo lo vedo lo vedo ho messo una minaccia di possibilità lì eh magari funziona eh arrivano nessun movimento tutto ok tutto ok hanno colpito due tre è morto sette due mi servi subito qui ok arrivo ghost dobbiamo ripiegare alla casa negativo resistiamo oppure andiamo avanti assane ancora là fuori sette sei fammi parlare con il supporto aereo Roger in attesa ho due tre cose zero set qui chilo zero uno un minuto all'attacco chilo zero uno colpite liberamente nell'area davanti a noi attacco di prossimità approvato ricevuto merda e adesso tenente mezzi corazzati in arrivo ce ne sono quattro oddio non è meglio sparare con un bazooka rpg non saprei cosa fare ah si è ricolpisco per qualcosa si ma no quanta gente c'è qua madonna nostro evitiamo di sparare al nostro magari chilo zero uno assegno assegno tutto libero lo spero cazzo via libera chilo zero uno nessun movimento in zona grazie per l'aiuto ricevuto sette sei chilo zero uno resto in sorvolo nell'area sette sei chiedi un velivolo per l'estrazione dei feriti capito rimettetevi in sesto Hassan è ancora là fuori si becchiamo quel bastardo alfa tu vieni con noi ricevuto tenente andiamo io tengo la mia che sembra carina sono 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 ben equipaggiati e organizzati merito di Hassan questi sono i nostri però ragazzi ci picchia è la mia allora me la scelta così io no questo questo bello no comunque bello al momento piloti sono ancora in zona sono abbastanza approvata perché i ragazzi primo gioco di guerra capito così gli altri li avevo lasciati un po' lì c'è mentre era multiplayer ok ma qua come si è dentro ci picchia cazzo uomo a terra cecchino di Alcatala sul tetto giù l'actavis giù so fattè il cecchino tutti gli altri restino giù fino al via libera tutto bene sette cinque a terra l'ho preso cazzo fanno a vederci cecchino ucciso cecchino ucciso hanno visori notturni siamo bersagli facili per Alcatala altri cecchini sul tetto falli fuori oh mi sa dove l'altro cazzo sessi scena io non l'avevo visto fuori un altro bel colpo soppi ci darà copertura avanziamo scambà è tutto scambano giù sono trincerati per bene qualunque cosa si sta difendendo deve essere importante qui ci stanno massacrando un attimo da me due secondi senza il sopporto aereo niente ragazzi però caso per camminare sono andati tutti i miei oh oh no no aiuto perché si ferma tu mamma mia grazie a dio c'è il supporto aereo vediamo che Assan sia ancora in te anche a pezzi andrà bene più facile da trovare bravo avanzare l'intero edificio va messo in sicurezza sup vai dentro troviamo Assan vivo o morto 7-1 in ingresso forse è meglio te aspetta no io mi fanno esplodere questi qui no no che cazzo controllate i corpi non sparate nessuno voi mi raccomando e col visore poi non vedevo niente qualcuno ha avvistato Assan negativo su Assan negativo bersaglio non avvistato negativo nessuno ma speriamo di non uccidere un'altra signora giumotto suicida possiamo dire giumotto suicida aspetta 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 e questo è sicurezza sono al piano terra madonna che spavento mettiamo un attimo qui magari c'è qualcosa ah porca era quello peccato magari vado di sopra primo piano procedo al primo piano riteniamo i vostri soldati e generali responsabili della morte del nostro generale col bravo lui è stato giustiziato dall'occidente ah no eh ci avevo già sparato io va bene volevi fare figo te e Ghost te lo concedo vedo due nemici non è Assan uccidili davanti al mondo intero moriranno Assan è ovunque ovunque ma non qui le continue aggressioni alla mia natura non ero amati io uccisione confermata no stiamo malissimo occhi aperti quei vermi sono dappertutto sì ho visto prima sono pericolosa io ma c'era questo qui ok ok libero no? eriva però porta uccidere? uno ucciso verso un altro finestra è stato qui è un cazzo di centro operativo guarda in giro sop guarda guardati intorno vedi cosa riesci a trovare un attimo stavo morendo cerca traccia di guarda guarda l'uniforme di Assan allora è stato qui è fuggito mentre eravamo sul luogo dello schianto dovevamo lasciarli morire secondo te le scelte hanno conseguenze bravo qui fuori abbiamo movimento arriviamo bravo radunarsi all'esterno cos'è figo ghost se Assan è fuggito che cazzo stanno proteggendo? così ci godiamo bene la storia poi dopo metteremo le altre se ci piace vogliamo rigiocarle mi siamo in trippo poi ci ho perso cosa abbiamo? un magazzino la saracinesca è aperta ho sentito dei rumori ok controlliamo va avanti contatto morti tutte e due figlio comunque è figo ragazzi mi sa che uuuuh oddio tipo qualcuno che mi può dare una macchina tu vuoi morire? beh poi dopo un certo punto uno si incazza pure qualcun altro? salve 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 ma quanti ce ne sono di dirmi? tutto libero volevate vediamo cosa nascondevano non sapevamo niente di questo magazzino che cazzo è questo? è tutto in inglese così aveva una leva ma ha fatto l'Iran a metterci le mani sopra 7-6 mettici in contatto con l'Aswell sì un momento bravo 7-6 Charlie a Watcher 1 mi ricevi? qui Watcher 1 in ascolto l'Aswell parla Ghost abbiamo novità spero si tratti di Assam Ghost da un'occhiata Ghost avete preso Assam negativo abbiamo trovato delle armi Assam ha dei missili e sono americani 07 qui capo Gold Eagle puoi ripetere cosa hai detto? ripeto Assam ha dei missili americani liberate la stanza nessuno sa niente avanti tutti fuori andate un po' vago l'Iran è entrato in possesso di missili americani io adesso sono in mano dal Catala Assam dava in giro i nostri missili balistici come cazzo di caramella d'Halloween e noi non lo sapevamo e la negabilità plausibile dell'Iran? ma quale cazzo di negabilità l'Iran c'è dentro fino al collo voglio sapere quanti missili hanno e dove hanno intenzione di usarli se Assam sta muovendo i missili qualcuno lo aiuta e non pensi che sia il caso di scoprire chi è questo qualcuno di al mio team due ore con quei missili e saprò da quali mani sono passati negativo li voglio distrutti generale sono una fonte di informazioni questo è un fallimento dell'intelligence Laswell e non sarà anche un fallimento tattico ci saranno 500 soldati nemici in quel posto domani all'alba ci serve una vittoria rapida qui capo Goldigl a Ghost mobilita i tuoi e va all'attacco distruggete subito quelle armi ricevuto capo Amsterdam e ora che c'entra Amsterdam con questa storia? è un centro di contrabbando le sue acque non sono sicure l'Iran ha uomini lì come noi chi? il capitano al momento è già sulle tracce di una cellula di Alcatala rice? questa è la prima buona notizia della giornata lo contatterò e me ne occuperò di persona Kate Laswell di nuovo sul campo sarà un lavoro pulito senza errori concordo in pieno Kate voglio che Hassan venga impacchettato e infiocchettato ma per ora massimo riservo come vuole guardate anche i visi cioè il ragazzo è fatto bene è un Amsterdam tempo all'arrivo meno di un'ora adesso dove sei? canali sotto un ponte c'è una nave di Alcatala trasporta un carico di missili negativo non questa speriamo che ci porti a quella giusta ti aggiorno Gas ci sei? ci sono allora andiamo mamma mia che roba Naswell siamo in posizione ricevuto cosa vedi? l'hanno migliorato scaricano qualcosa su una ghiatta è l'obiettivo salite e scoprite con chi lavorano ok ci sono delle pattuglie vabbè migliorato si Alcatala sorveglia tutto il porto eliminatele per raggiungere la ghiatta mettetevi al lavoro chiudo dividiamoci ripulisco l'esterno tu prendi il porto discrezione tranquillo se gioco io discrezione ci vediamo alla ghiatta si dopo di lei ma non posso usare quelli fighi io non comprendo ecco sul primo pontile ce n'è uno quanto posso resistere? no non posso come faccio a usciderti? perchè mi ho fatto il figo io no? faccio il coltello attento ti vedono ciò lo so un attimino ma devo rilasciare semplicemente ok grazie posso salire? sono sopra non stare lassù a lungo capitano ma non posso usare anche l'armetta ragazzi stavo facendo non riuscivo a lanciarlo non avevo letto c'è l'acqua c'è l'acqua c'è un comune di pattuglia nel porto eh? non farti scoprire che cazzo è? eh? ma chi sono? cioè dall'acqua io mando sono paurosa non lo vedevi? era lì passo era la pistola? non posso metterla via dì ma come faccio a farli fuori tutti io questo? non c'è il mio amico cazzo mi hanno visto mi hanno visto? mi hanno visto? ma perchè i sneaky sneaky? i sneaky sneaky non andiamo d'accordo una granata in acqua è rimasto uno finiscila hai pulito potresti darmi la mano? ti sei sfuggito non abbassare la guardia no hanno una mano mi sento mi sento braccato e dai ma oh mi sono fatta sgamare in tutte le maniere del mondo eh attenti un attimo sto cercando di capire cosa devo fare non è che mi stai dando tanto una mano io io dovevate dire che era tutto sneaky sneaky dai guardi alle costole torna indietro e finisci gli unici superstiti dobbiamo essere noi due ma mi hai detto di non far fuori nessuno adesso far fuori tutti bisogna i miei obiettivi ah ok libera il porto vabbè andiamo a ucciderli scaltro come una faina non c'è non c'è dentro di qua saranno di qua eh dove sono quelli con il comune ho capito non li vedo eh cos'è ah ah finisci serio? no non andare via non vada per via troppo esagerato quindi dopo che ho fatto questo hanno un altro gommone di pattuglia attacca non ho più armi io eh ah eh sti cacchi bene dai vediamo cosa faccio beh per carità è la mia premura eh ecco adesso come lo mettiamo l'ho preso adesso si uno ucciso non mollare devo aver riusciuti tutti no? prima non vuoi che mi sgamino e poi dopo per tutto sto lavoro c'è 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 delle armi ok forse ecco c'è di uno squalo io ragazzi c'è uno ucciso ok C'è qualcuno là Ok La domandona Qui In tutto questo Ho lasciato uno No, me li hai fatti fuori tutti Ce n'è uno qua C'è stato di me Gerardo qui Nel mio con ucciso È andato bene Perché che ho lasciato indietro Dì, troverò tu Donna, mi è stato difficile salire Oddio Hanno visto, sì Perché volevo le munizioni Ecco perché mi hanno visto Stiamo vicino al bar Sto morendo anche Sto soffocando Oh 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 Non brillare un po' troppe robe Meno uno Bel lavoro, sergente Capisco Capisco Io cerco E d'altro non era lì Sto muenzioni cosa fai Operazione sneaky sneaky Mi raccomando Non mandate saint E' l'altro E' lì eh Torna indietro Non lasciamo testimoni Uno ucciso Continua così Ma torna indietro dove? Che altri testimoni Dovrei Ti ha lasciato indietro Voi li vedete? Ha lasciato indietro uno E non lo so Così Vado su a vedere Indapurtutto Perché No Ma non mi sembra Averne lasciato Sto 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 Dov'è questo uno Che ho lasciato indietro Ragazzi Me lo sto dicendo Da prima Ma io non lo vedo Forse si Vado Come se non si era neanche visto Dai però Torna indietro Ne resta uno A terra Complimenti E' quello? Penso L'abbiamo fatti fuori Tutti No? Era quello lì Ok ci sta Io ho ruolto un po' di armette Posso andare via adesso Dai Bene Come dice ancora Gas Sono quasi alla ghiatta Raggiungimi un più presto Ma sì Prudente Che colori? Ok Mi manca poco Libero Arrivo da te Sergente Lui è Price O è uno? Ah sì Hanno visto bene Sondo Hanno visto bene Devi starmi No Non ne resta uno Era quello lì in fondo È chiuso Stavo sparando Non lo sopraeste Seguimi Naswell Stiamo salendo a bordo Bene Tenetemi aggiornata Capito Sì Ho visto Senti Spagnolo Pare di sì Ci sei Brutto È cattivo Guarda La Salmas Un cartello messicano Che fanno qui? Laswell L'Iran usa un cartello Per il trasporto Dammi un nome Gian La Salmas Passan collabora con i Narcos Aspetta Ti sei fidato Macchietta dei Narcos Vado Bello Questo è mi piaciuto molto Che lui apre Io sparo E quasi muoio Mi è piaciuto Mi è piaciuto Però a sto punto Vediamo un po' Invece di avere un fucile Sempre del cartello Libero Il suo telefono Prendilo Il cartello incontrerà Alcatala Laswell Cerca caffè Gratt Succederà qualcosa Quando? Un'ora Fico ragazzi E' figo Bravo sei A watcher uno In posizione al bar Due al tavolo Alle mie ore Quattro Uno del cartello Uno iraniano Fantastico Cosa fanno? Conducono una transazione Elettronicamente Confermo Pagano il cartello per qualcosa Scopriamo cosa Sicurezza? Moltissima Me ne occupo io Lasciamene un po' Ricevuto Stiamo arrivando Siringhe Vereno Non letale Li metterà a cappau Merda della CIA Benvenuto nel mio mondo Stendi le guardie Così arriveremo al nostro amico Lei? Distrazione Dimmi quando Ricevuto 06 rapporto Parlano di orari Quando agiranno? Stanotte Stagli addosso Ci servono informazioni Carico e destinazione Ricevuto Gloria Potremmo seguire giustamente lei Stop Due del cartello Alla fine del ponte Visuale confermata Non devono vederti armato Vediamo se si separano Perfetto Uno si allontana Viene verso di me Lo seguo Io prendo quello al ponte In movimento Calma amico Hai alzato il gomito eh? Avanti Guardia a terra Ponte libero Perfetto Ora raggiungimi Watcher 1 Il carico è umano Un pezzo grosso Destinazione Stati Uniti Kijan Cosa che roba? Il maggiore Hassan Zayani Merda Allora in Messico Siamo in tempo per fermarlo Prendiamo il nostro amico del cartello E facciamoci dire tutto Se Hassan porta un missile A tiro degli Stati Uniti Sarà un massacro Che si fa? È circondato da guardie Non abbiamo controllato l'area Forse ci sono altre guardie Non c'è tempo per setacciare l'area Serve un diversivo Io ho qualcosa Gas Vediamoci al bar Questo bar Prendi Che cazzo sarebbe? Granata esca Funzionerà Torna dall'Aswell Entriamo in azione Loro non se ne accorgono Nel vicolo Appena scoppierà il panico Il cartello cercherà di spostarlo E qui entro in gioco io Devo lanciarla lì? Oh Sergente Ah no Ma sarai Mattea E sa perra Ho tirato fuori l'arma Prendi Ho tirato fuori l'arma Che cazzo sarebbe? Granata esca Funzionerà Torna dall'Aswell Entriamo in azione E come l'arancio? Nel vicolo Appena scoppierà il panico Il cartello cercherà di spostarlo E qui entro in gioco io Con te Gas Tre secondi Gas Arrivano le guardie Io ne prendo una Tu l'altra Guardia a terra Ti raggiungo capitano Fai in fretta Ti organizzo la fuga Vediamoci al ponte Intervengo Tappati la bocca Seguimi Gas Coprimi Ok Qui davanti Buocer 1 Obiettivo sicuro Stiamo arrivando Ricevuto Cartello dietro di noi Coprimi Sergente Dove cacchio Non è Buocer 1 Ci attaccano Tre nemici Direzione sud Ricevuto Arrivo Attenzione Sta arrivando la politica Tre minuti Guardi fuori Andiamo andando Cos'è sta qui? La polizia Andiamo a liberarcene Libero Gas Usa la siringa La usa? La siringa Tirala su Un momento di panico Non avevo capito neanche dove ero Watcher Andiamo Ricevuto Arrivo Dentro Ottimo lavoro Anche lei Scopriamo dove portano Hassan e intercettiamolo Lo sveglieremo Ci dirà tutto Figata Sicuri che parlerà? So essere molto persuasiva Colonello Vargas Che ha posizione Laswell? Non mi aspettavo queste formalità Allora la faccenda è seria Loe Mi serve il tuo aiuto Alejandro Parla Il cartello Lasalmas vuole portare un terrorista iraniano oltre il confine Laswell I terroristi non passano dal confine sud Lo sappiamo e lo sanno anche loro Ecco perché ci proveranno Devi assolutamente impedirlo Chi è il bersaglio? Il maggiore Hassan Zayan Capito Quando? Stanotte Sono collegata a un drone di sorveglianza E' parecchio movimento la sua I migranti sono in acqua La polizia di frontiera interverrà I narco scusano i migranti come esca Potrebbero muovere Hassan ora Ricevuto Dov'è l'FBI? Arriverà tra un'ora Abbiamo solo voi Un attimo Rodolfo I migranti sono un'esca Il bersaglio è in movimento Hanno attraversato il fiume con una barca Su, cerchiamola D'accordo Ci pensiamo noi, Watcher Alejandro Non deve barcare il confine Ricevuto Chiudo Se attraversa il confine Non avremo giurisdizione Allora dobbiamo impedirglielo Ehi, coronello Laggiù, verso nord La loro barca Ferma qui Ehi, scusa Hassan si muove rapidamente Possiamo beccarli prima che attraversino Ricevuto Il muro è più avanti Sta pronto Il cartello Il cartello Cambio di tattica Ascolta Conto quattro nemici Visuale su Hassan In cima al muro Merda Ha attraversato Non possiamo perderlo Puoi fare? Dobbiamo ingaggiare Con l'armetta Io Non ho altre armi Au No Questa è stata bruttissima Au Au No Così No Non va bene Non va bene Non va bene Lo facciamo? Non ho fatto male Merda Ha attraversato Non possiamo perderlo Dobbiamo ingaggiare Già passò Toma la escalera Ho sbagliato Devo prendermi la colola Libero Libero Watcher Il bersaglio ha sconfinato Si muove Lo inseguiamo Colonnello Ve lo sconsiglio Non avete autorità Né risorse nell'area Lo so Tu avverti l'FBI E contatta la polizia locale Chiudo Rodolfo Usa la scala Muoviti Ah vado Riesci a vederlo? Negativo È fuggito E noi lo seguiremo Forza Il cartello Lo porterai In un nascondiglio In città Dobbiamo trovarlo Ricevuto Qui a San Ha molti più amici Di noi Prudenza Eh insomma Mi sento molto sicura Con gutta Forza Ho sentito qualcuno Do un'occhiata Di qua Sono ma Ehi Che cazzo pensate di fare? Forza speciale Restate dentro Torni dentro Oh merda Il campo è libero Forza Per il conflitto Casa all'angolo Ricevuto Contatto Apri Ti copro Fuori dalle palle La porta Dai E io? Ho fatto Forza speciale Forza speciale E guardate anche voi Giura non pensavo fosse civile Giuro non pensavo fosse civile Scriviamo lui perché io sono pericolosa Apriamo dai Forza speciale Forza speciale Camera libera Avanza Io cosa devo fare? Metti giù l'arma Fanculo Vattene da casa Sono delle forze speciale Per andartene Ah io L.T. fa così eh Cioè non capisco Assan non è qui Sbrigiamo Ok L.T. per evitare il conflitto Ma l'angolo di Flores e Baracas Bersaglio diretto a un nascondiglio a Ovest Ma l'ho ucciso non andava bene Ricevuto Sta arrivando la polizia locale Ok chiudo La tuglia del cartano Sottosso Ci spari? Non dietro Dietro le spalle Dietro le spalle Ti mando i secondi Eh puttana che male O Ok ok Don't be scared Don't be scared